Questa che stai per vedere è una spiegazione innovativa su come si dovrebbero memorizzare i meccanismi molecolari. Nello specifico si affronterà la memorizzazione dello stress ossidativo e la spiegazione è stata tenuta durante una delle giornate di pratica del corso ordinatamente. Se non hai frequentato il corso e non conosci i contenuti del nostro metodo di studio ordinatamente, probabilmente la spiegazione potrà sembrarti un po' strana e anomala, ma fidati che sono degli strumenti semplicissimi che si possono acquisire in pochissimo tempo, l'unico requisito è quello di lasciarsi andare e provare queste nuove tecniche. Quindi alla fine del video fammi sapere come ti sei trovato scrivendolo nei commenti, se hai bisogno di qualche altro trucchettino noi siamo qui, basta scriverci praticamente su tutti i nostri canali social e riceverai tutto quello di cui hai bisogno e soprattutto se sei alla ricerca di un metodo di studio sappi che con noi lo troverai. Ah dimenticavo, se non l'hai già fatto, supportaci mettendo mi piace a questo video e se vuoi inizia a seguire la pagina attivando anche la campanellina così da ricevere sempre gli aggiornamenti riguardo i nostri prossimi video che ti aiuteranno a preparare al meglio i tuoi prossimi esempi. Ciao! Allora, stress ossidativo. Ora calcolate che di questo argomento lo stress ci sono diversi tipi di stress, c'è lo stress ossidativo, c'è lo stress da carenze nutrizionali ed altri tipi di stress. Ora, questo stress ossidativo, nello specifico, che cosa faccio? C'è un meccanismo. Io come faccio a memorizzare, a comprendere e memorizzare il meccanismo? Devo andare ad individuare le parole chiave perché i meccanismi è come se fossero una cascata. Roberto tocca Lorenza, Lorenza tocca Anna Giulia, Anna Giulia tocca Sofia, anzi Roberto attiva Lorenza, Lorenza inibisce Anna Giulia, Anna Giulia aumenta e quindi fa diminuire Sofia. Questi sono i meccanismi, no? Io devo individuare tutti questi personaggi a partire da quello che è il titolo, il titolo sostanzialmente stesso ossidativo, l'apoptosi. Ross danneggia DNA, quindi blocca il ciclo cellulare, blocca, invece di andare a cerchiare blocca, ho scritto all'interno del cerchietto OFF, oppure potrei mettere un simbolo. Se non ci riesce la risposta estrema della cellula sarà l'attivazione dell'apoptosi. Quindi, P53 aumenta la trascrizione di Bax, e qui avrei dovuto mettere un frecciato, che aumenta la permeabilità dei mitocondri, esce il citocromo C, perché è aumentata la permeabilità dei mitocondri, quindi se aumenta la permeabilità vuol dire che una maglia si è allargata e quindi esce fuori citocromo C. Ora, questo qua vi sembra una cazzata quello che sto facendo, ma credetemi che fosse la cosa che funziona di più. Cioè, quando io vado a sfruttare le mani e i gesti, le cose le capisco meglio. Quindi, se potete, quando state facendo un meccanismo del genere, ma in generale quando state leggendo un testo, cercate di, col cervello, con le mani, come se voi aveste, tipo, un, come si chiama il visore, quello della Apple, che potete spostare le copate, lo stasera qua, perché vi aiuta tanto in quei 15 secondi lì e anche nei 2-3 minuti successivi. E se avete fatto dei gesti particolari, strutturati in una maniera particolare, vi resteranno anche per le ore successive, se non per i giorni, però poi dopo non ti guarderete più. Però questa è una buona tecnica per essere super concentrati al momento. Quindi esce il citocromo C e si forma l'apoptosoma. Si attiva la caspasi 9, che attiva la caspasi 3, che attiva le endonucleasi, che quindi porta, infine, all'apoptosi. Ora, come mi devo comportare io qui? Molto semplicemente, devo andare a individuare le parole chiave. E l'ho fatto. E devo andare a creare i cliché di queste parole chiave. Allora, questo è... il nostro argomento stress ossidativo solo con le parole chiave. Le parole chiave sono queste qui a sinistra, i cliché con generale sono queste a dentro. Le cellule elevati... lo stress ossidativo quando avviene, quando nella cellula ci sono elevati livelli di ROS. ROS, ragazzi, io non so che cosa vuol dire ROS, ovviamente, devo andare su internet, scrivo ROS. Se sto facendo medicina, scrivo medicina, sto facendo storie, scriverò storie, così vediamo che mi dice. ROS, sigla per reactive oxygen species, ovvero specie reattive dell'ossigeno. Ecco perché si chiamano ROS. e cerco sempre di capire, ma perché si chiamano specie reattive dell'ossigeno. Ah, quindi sono cose che partono dall'ossigeno e quindi è l'ossigeno stesso che cambia e diventa cattivo. ROS diventa cellulare rosso. Cioè, quando nella cellula ci sono elevati livelli di ROS, noi prenderemo un cellulare rosso. P53 sarà un lampione, perché sarà un lampione così, lo scelto così. Non c'è conversione fonetica dietro. Perché quando l'ho fatto era una che non aveva... non conosceva la conversione fonetica, quindi abbiamo preso il lampione. Dovrebbe funzionare, però ovviamente sarebbe meglio fare un Cisce per 53, che noi sappiamo essere l'EM, quindi possiamo fare una palma. Ok? Visto che abbiamo la P, però in questo caso non è percentuale, è la 53. Ma come fai a ricordarti che non è percentuale? Perché innanzitutto io le percentuali le ho fatte soltanto sui numeri multipli di 5. 5, 10, 15, 20, 25, quindi questo qua non è multiplo di 5, quindi non dovrei sbagliare. Quindi qua facciamo che c'è una palma. Poi, Bugs, Bugs Bunny, vi piace? Mitocondri sono una centrale elettrica. Comunque posso scegliere centrale elettrica, centrale nucleare. Citocromo C, prendo la C e faccio ferro di cavallo, quindi un cavallo. Oppure potrei fare C un animale che inizia con la C o qualcosa che mi ricorda la C. Apoptosoma, Apu di cosa lo conoscete? Dei Simpson? Apu dei Simpson per apoptosoma, che in realtà è Apu. Quindi, Caspasinove, Caspasinove, noi quando abbiamo i numeri a due cifre utilizziamo la conversione fonetica. Se abbiamo numeri ad una cifra, possiamo tranquillamente utilizzare, se vogliamo, la loro forma. Il palloncino con la corda alla forma del 9. Lasciatemelo passare. Tra l'altro oggi a una giuna mi ha chiesto lo schedario mentale. Oltre a quello schedario mentale lì e di quello schedario mentale lì sto creando anche un video in modo che uno si può fare la visualizzazione delle varie immagini senza dover leggere, ma soltanto con l'ascolto, ma ancora non sarà pronto prima di un mese. Posso fare anche lo schedario mentale per i numeri per forma. Quindi il 3 diventa un tridente. Oppure potrebbero essere due labbra. Oppure, se vogliamo essere volgari, potrebbe essere pure un culo o due tette. Ok? Quindi, quante cose ci stanno nel 3? Ce ne stanno ancora tante. Un cuore, volendo. Però se sto facendo medicina è inutile, evito di mettere il cuore. Culo e tette? Culo sì, perché per la fine le patologie del culo non ce ne stanno. Tette eviterei perché magari possa essere qualcosa con la mammella e potrebbe essere e potrebbe servirti per quello. Quindi, Casper tridente, poi abbiamo endonucleasi, ho messo l'anduglia e apoptosi, che non è apoptosoma, ho messo l'impiccato perché l'apoptosi è la morte programmata, quindi uno che si suicida. Non è il massimo, cioè nel senso, non è bello come cliché, però è impattante e quindi lo possiamo utilizzare. Che cosa faccio adesso? Siccome me l'aveva chiesto prima Sofia, creo il link method. che cos'è? Il link method è molto semplice, è una scena che si collega ad un'altra scena, 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 fino a quando vogliamo. calcolate che non c'è un limite del link method la persona che ricorda più numeri del pi greco più cifre del pi greco scusatemi ha 80 anni probabilmente adesso è morto e ne ricordava 110.000 cifre con il link method o comunque con queste tecniche qua quindi non c'è una fine quindi semplicemente il link method lo possiamo paragonare a un episodio di una serie perché se tu ti guardi l'episodio di una serie di un cartone animato in un episodio tu hai la prima scena poi c'è la seconda scena poi c'è la terza scena e la quarta scena l'unica cosa è che negli episodi queste scene non devono essere per forza collegate tra di loro nel senso che può esserci un flashback può esserci qualcosa invece nel caso del link method è fondamentale che la prima scena sia collegata alla seconda attraverso l'ultimo cliché della scena poi l'ultimo cliché di questa scena si deve collegare al primo cliché di quest'altra scena l'ultimo cliché di questa scena deve collegarsi al primo cliché di quest'altro e via discorrendo quindi volendo fare una prova pratica possiamo immaginare adesso fate la doccia aperte poi chiedete gli occhi che c'è un cellulare rosso dove si trova questo cellulare rosso si trova sotto una palma ok ma è la palma di chi è o è custodito da qualcuno questa palma sì la palma è custodita da Bugs Bunny che Bugs si scrive Bugs o Bugs? ah andate scrive Bugs Bunny ok quindi è Bugs Bunny però noi lo pronunciamo Bugs quindi va benissimo per Bugs Bugs Bunny quindi che cosa fa? siccome Bugs Bunny sta custodendo lì la palma però ad un certo punto deve andare a lavorare alla centrale elettrica dove lui lavora mi immagino che Bugs Bunny lavora la centrale elettrica e ci va a piedi quindi va alla centrale elettrica quando arriva alla centrale elettrica si rende conto che nel parcheggio c'è un cavallo non resiste alla tentazione prende il cavallo e si va a fare un giro e va a fare la spesa da Apu Apu dei Simpson alla cassa da Apu ci trova Casper il fantasma e Casper che sta facendo? ha un palloncino e fa uno scherzo a Apu stesso bucandolo con un tridente che cosa esce fuori da questo palloncino che scoppia? l'anduglia e dove finisce questa anduglia? finisce sull'impiccato ora io una cosa che vi invito a fare quando fate il link method è essere pazienti chi corre cioè cento per cento non ricorderà una mazza ma ci posso mettere la firma ci posso giocare tutto quello che voglio tutto quello che posso che sicuramente non ricorderai nulla quindi è fondamentale farsi quelle domande che mi sono fatto io il cellulare dov'è? perché sarà quello il percorso che noi faremo non abbiamo il percorso fisico del locus abbiamo un altro tipo di percorso che è una serie di azioni che succedono conseguenzialmente il cellulare dov'è? è sotto una palma quindi mi immagino questa palma magari me l'immagino dove? in una spiaggia fantastica paradisiaca così vedete come il cervello si ascende di più quindi questo cellulare è sotto una palma e la palma vedo che c'è Bugs Bunny che succede amico? me l'immagino proprio che cosa fa? deve andare a lavorare e va alla centrale elettrica arriva alla centrale elettrica e che cosa succede? vede che c'è un cavallo nel parcheggio siccome lui è molto curioso è molto stupido prende e sale sul cavallo e va a fare la spesa da chi? da Apu arriva da Apu si apre le porte scorrevoli come succede nelle carte animato dei Simpsons entri dentro dove c'è la cassa e in cassa vedo che c'è Casper quindi l'attenzione adesso è tutta su Casper che ha un palloncino che buca coltri dentro esplosione esplode l'anduglia che va a finire da tutte le parti però la nostra telecamera va a focalizzarsi su quell'anduglia che è andata a finire sull'impiccato e l'impiccato magari o me l'immagino che è dietro il bancone e prima non l'ho visto oppure magari è un po' più dietro tipo dove stanno i frigoriferi così finisce la scenetta sarebbe il caso quando faccio il link method ma anche con la tecnica del oci di ripercorrere poi tutto al contrario in modo che vada a fortificare il tutto anche perché se procedo al contrario mi faccio un altro tipo di domanda diciamo di inversa di quella precedente che mi aiuta a stabilizzare ancora di più il percorso quindi faccio all'impiccato cosa succede? all'impiccato vanno addosso gli schizzi di induglia perfetto e si schizzi di induglia da dove sono venuti fuori? dal palloncino bucato dal tridente e chi l'ha bucato? Casper ma Casper come ci siamo arrivati? Casper era in cassa perché Bugs Bunny è andato da Apu perché siamo da Apu quindi Bugs Bunny come ci è arrivato da Apu? col cavallo e il cavallo dove l'ha trovato? alla centrale elettrica alla centrale elettrica chi c'era chi c'era andato? comunque c'era andato Bugs Bunny che dove si trovava prima si trovava a questo dire la palma e sotto la palma che cosa c'era? c'è il cellulare rosso ok? così io provo poi a fare la conversione di quello che ho nella mia testa e dico ok cellulare rosso quando nella cellula ci sono elevati un'elevata concentrazione di rosso che cosa succede? che la palma P53 ok poi c'è Bugs Bunny quindi Bugs vedete che ancora non mi chiedo aumenta attiva mi interessano soltanto i soggetti perché parliamoci chiaro se siete all'esame e vi ricordate i soggetti e dovete dire aumento o diminuisce raga è 50 e 50 verrà a giocare per molestando che adesso andiamo a vedere pure come facciamo a ricordare aumenta o diminuisce però se io so i soggetti all'esame già il professore sente che sono i soggetti i protagonisti di un meccanismo già di per sé non mi può bocciare se poi mi dice ma l'aumento o diminuisce allora là se riesco ad andarci per logica provo ad andarci per logica se non riesco ad andare per logica c'è il 50% quindi magari può andare bene come può andare male quindi sicuramente è più importante ricordare il soggetto rispetto a ricordare solo se c'è una cosa che aumenta e diminuisce perché io al professore gli dico e poi c'è una cosa che aumenta sì ma cos'è sta cosa non me la ricordo e se invece gli dico poi c'è questo c'è questa molecola questo gene il Bax che dovrebbe aumentare no non aumenta diminuisce no sì diminuisce mi ha fatto confusione e dicevamo quindi che c'era il Bax che era Bax Banni poi Bax Banni è andato alla alla centrale elettrica quindi centrale elettrica dovrebbe essere mitocondri ci trova il cavallo cavallo è citocromo C il cavallo che fa va DAPU apoptosoma e poi DAPU che c'è Casper con il paluncino e il tridente quindi caspasi 9 e caspasi 3 ok poi che c'è l'anduglia quindi l'anduglia è endonucleasi e poi c'è il come si chiama l'impiccato che è apoptoso primo giro chiuso le telefonate tutto a posto secondo giro che vado a fare secondo strato vado a curare quelle cose di aumenta diminuisce che magari non sono fondamentali per diventare dottore però sono fondamentali per prendere 30 all'esame quindi che cosa faccio riprendo di nuovo quello scenario tutti quell'episodio che avevo creato rigenerato solo che vado ad implementare ad integrare con delle cose nuove tipo andando sul testo mi rendo conto che la ROS danneggia il DNA quindi vabbè diciamo che partiamo da P53 aumenta la trascrittasi di Bax aumenta permeabilità di mitocondri quindi come possiamo fare per indicare che Bax aumenta magari la trascrizione posso fare che Bax bagni mentre va alla centrale elettrica quindi nel mentre si reca alla centrale elettrica posso immaginare che tipo sta trascrivendo dei manuali sta trascrivendo dei messaggi che gli sono arrivati sta aumentando il numero di trascrizioni che sta facendo di questi messaggi così che io vi ricordo che Bax aumenta la sua trascrizione la centrale elettrica che cosa succede io prima ho detto che arriva la centrale elettrica e nota che c'è il cavallo nel parcheggio ferma qua possiamo fare che in realtà alla centrale elettrica ci stanno dei recinti no? mi ricordo che le centrale elettriche ci stanno dei recinti che indicano se è permeabile o no più sono chiusi i recinti meno è permeabile no? posso immaginare che arrivo alla centrale elettrica e mi rendo conto che ci sono tutte le recinzioni che sono state tipo distrutte da chi? magari dai cinghiali però non sono i cinghiali perché non c'entrano niente ma è il cavallo anzi vi dirò di più il cinghiale va benissimo perché è citocromo cinghiale quindi qua utilizzeremo il cinghiale che poi è una cosa che fa il cinghiale quella di quella di rompere le non so se vi è capitato di vederle le spaccano le recinzioni quindi vedete come una scenetta che è reale e coerente diventa una cosa che possiamo utilizzare ecco perché si dice noi li abbiamo chiamati pavich quella c finale sta per coerente quando non trovo nulla di paradossale posso utilizzare le cose coerenti questa è una cosa che abbiamo introdotto io conordinatamente riguardo alle tecniche di moro perché i soliti dicono fai le cose paradossali però se non riesci a fare cose paradossali va bene anche fare una cosa coerente e questa è una cosa coerente quindi c'è questo cinghiale che ha distrutto insomma il recinto quindi ha aumentato la permeabilità dei mitocondri e poi vediamo qua che dice il citocromo ci esce e l'abbiamo detto perché esce fuori dal recinto e poi Bugs Bunny ci va da APU si forma l'apoptosoma come posso fare per ricordarmi che si forma l'apoptosoma allora l'apoptosoma è APU nello specifico il suo negozietto il suo market si forma vuol dire costruzione posso immaginare che lì da APU ci sono i muratori che stanno costruendo l'edificio stanno costruendo quindi stanno formando di nuovo il cosmo posso utilizzare qua caspasi 9 è attiva è attiva che posso fare posso immaginare semplicemente che c'è Casper Casper avete capito chi è no? io ho detto tutto spantato che era uno dei miei personaggi preferiti quando ero piccolino forse il mio preferito quando ero piccolo quindi Casper lui è bello attivo attivo quel giorno forse è drogato pure quindi è iperattivo cioè Casper che si è drogato è superattivo e quindi fa questi scherzetti nel market così che mi ricordo che la spasi si attiva e si attiva e poi l'endonucleasi vediamo che succede all'endonucleasi si attiva pure l'endonucleasi che porta all'apoptosi quindi niente si attiva l'endonucleasi possiamo collegarla sempre a Casper che è attivo e automaticamente perché se io poi vi dovessi chiedere adesso ma la caspasi 9 si disattiva o si attiva? si attiva perché ricordiamo che si è drogato tutto attivo attivo no era mezzo morto era mezzo moribondo era mezzo muscio molto muscio e quindi questo qua mi può servire per fare la memorizzazione di un meccanismo attraverso i link method una volta che l'ho fatto mi sono messo qua i cliché e qua mi sono andato a segnare tutti i pavici anzi forse facciamo così chiamiamoli pavici e link anzi facciamo così episodi chiamiamoli episodi così togliamo la testa al toro e c'è l'episodio del cellulare rosso dove si trova sotto la palma bla 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 poi c'è l'episodio del buco che ancora non abbiamo fatto e l'episodio dell'anoressica che ancora non abbiamo fatto riuscire al volo dello stress da nutrienti una particolarità dell'esbob ovvero nell'esbob il professore inizia a parlare qui di questo stress da carenze nutrizionali da qui a qui poi qui c'è la domanda che ha fatto un ragazzo e vi faccio notare che siccome è una domanda che parla di adattamento ipertrofia sicuramente ne parlerà poi nel capitolo dell'adattamento quindi in questo caso io traccio una sbarra non mi interessa nulla di quello che sta dicendo adesso perché tanto ne parlerà dopo o al massimo io mi sono segnato dopo come dire dai un controllo fai un check con quello che dirà dopo se dice qualcosa in più di particolare allora bene se magari qui ha detto ragazzi che questa cosa ve la chiedo all'esame allora gli do gli do importanza se no per il momento non cerchio nulla poi qui cosa ha fatto il professore giustamente quando inizia a parlare di qualcosa di molto complesso vi dice prima le cose proprio essenziali essenziali ess essenziali poi magari vi dice il meccanismo proprio super completo e poi magari dopo vi fa un mini riassunto basic delle cose da dire allora voi qua dovete essere bravi a scegliere che cosa voglio fare io voglio fare una cosa essenziale una cosa basic o una cosa completa in base a quello che scegliete vi comporterete di conseguenza quindi il link method lo farete soltanto su questa parte qui perché questa è super completa che vado a fare link method di questo link method di questo link method di questo se è la stessa cosa cioè è un po' come dire che ragazzi vi parlo di Roberto Fabricatore sono Roberto Fabricatore nato giorno X e qua vivo da questa parte qua poi un'altra volta vi racconto tutta la storia della mia vita e poi un'altra volta vi dico due o tre cose su di me che dovete sapere poi alla fine se vi dico tutta la storia della mia vita sapete che poi dovete argomentare su quella cosa lì sentite soltanto il pezzo della storia della mia vita e la parte basic diciamo che mi serve giusto per orientarmi ma a livello di memorizzazione memorizzerò soltanto questa parte qui o solo questa parte qui perché tanto è una parte che non mi interessa approfondire troppo o addirittura faccio proprio una cosa proprio essenziale e prendo le tre molecole fondamentali che se non gli dico queste tre molecole mi deve bocciare per giusta causa va bene quindi occhio quando stiamo studiando sempre a individuare i blocchi e capire se si riferiscono alla stessa cosa e che grado di approfondimento c'è oppure se si riferisce a qualcos'altro come è questo blocco qui se quel qualcos'altro non è inerente a quell'argomento mi segno con un'etichetta che dovrò guardarlo dopo oppure lo vado a cancellare se sono sicuro che non ne dovrò di questa cosa di questo argomento l'adattamento sicuramente non ne devo non è qui che trovo le informazioni perché stanno nel loro capitolo specifico grazie a tutti